Oltre 150.000 euro raccolti in appena 10 giorni, più di 4.000 le persone che hanno dato il proprio contributo per sostenere la famiglia di Cristina Rosi. Insomma, una vera e propria gara di solidarietà. Il marito, Gabriele Succi, aveva infatti creato la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe lo scorso 26 dicembre ed adesso il traguardo di speranza è stato tagliato. Cristina la prima cosa merita almeno di vedere la sua bambina e poi per chi la conosce può le dire che è una ragazza solare, una ragazza brava, non perché sono suo marito ma chiunque la conosce può le dare ragione. Non si merita quello che sta succedendo ora e secondo noi lei si merita tutte le possibilità del mondo. La giovane mamma lo scorso luglio era stata infatti colpita da un arresto cardiaco che aveva comportato gravissime conseguenze per lei e per la piccola Caterina, la bimba di cui era incinta e che la donna ha dato alla luce con un parto cesario d'urgenza. La bambina ha subito danni cerebrali mentre la donna è in stato vegetativo da ormai 5 mesi e nonostante il lungo percorso non molto sarebbe cambiato. Da qui la necessità di un trasferimento in un centro specializzato per la riabilitazione neurologica e motoria ma servono molti soldi. Se c'è delle strutture più moderne, più avanzate con più cure specifiche per la Cristina io voglio fare di tutto per portarla lì, per dargli una possibilità, se esiste per dargli una possibilità. Mi fa da ritornare, penso che uno spera come prima ma non sarà facile, però togli il meglio possibile e così può fare. L'obiettivo adesso così è stato raggiunto grazie alle donazioni e alle condivisioni dell'appello, tanti anche i volti dello spettacolo che ci hanno messo la faccia per sostenere la raccolta fondi dai cantanti Aretini, Pupo e Giovanotti alla Iena, Matteo Viviani. L'unica strada qual è? È quella di poterla trasferire in una struttura privata, specializzata, che possa offrirle le migliori cure per cercare di ritornare di nuovo lucida, cosciente, cercare di ritornare a vivere. E' questo il desiderio in questo momento più grande di suo marito, però per fare tutto questo ci vogliono soldi ragazzi, tanti soldi. Mi sembra che non ci sia altro da aggiungere, se non forse che non c'è miglior modo di iniziare l'anno che con una buona azione del genere. In questo caso basta non swipe up, d'accordo? Buon anno a tutti.